Allora mandiamo subito il filmato Vediamolo Questa è una frusta molto usata Uno dei frustratori romagnoli Chi mandava il calesse col cavallo Aveva il frustino che era questo Questa con la corda come vedete Altre sono fatti di pelle addirittura Praticamente la corda è grossa all'inizio Poi diventa sempre più piccola E l'ultimo tratto è proprio in filo Il movimento del polso con il braccio Fa sì che l'accelerazione è tale Che se lo faccio a farlo Sì l'accelerazione è reale Sì l'accelerazione è reale Sì l'accelerazione è reale